Parliamo di medicina e di nuove frontiere della medicina. Importanti novità nel campo della laparoscopia e nuorologia verranno presentate nell'ambito di una due giorni che si terrà lunedì e martedì prossimo a Nocera Inferiore presso l'ospedale Umberto I. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il professore Roberto Sanseverino. Questo è un evento formativo che noi organizziamo ormai dal 2003, quindi sono più di dieci anni che si ripete ed è un momento importante di crescita prima di tutto per me e per il nostro gruppo, ma anche per i colleghi che vi partecipano perché oggi la chirurgia evolve verso tecniche sempre più raffinate, sempre meno invasive, che sono però anche complesse da apprendere. Quindi tutti gli eventi che sono volti ad approfondire gli aspetti di formazione per colleghi più giovani o comunque colleghi interessati allo sviluppo di queste tecniche sono considerati in ambito urologico ma un po' in tutti gli ambiti della chirurgia come degli eventi formativi importanti. Le novità sono di carattere ovviamente tecnologico perché bisogna sottolineare il fatto che la evoluzione della chirurgia in particolare della chirurgia mini-invasiva cosiddetta, che poi è una chirurgia video guidata, cioè viene realizzata attraverso dei sistemi di riproduzione video delle immagini e va di pari passo con l'evoluzione tecnologica. Di conseguenza c'è un'evoluzione di tutte le apparecchiature che noi utilizziamo sia dei sistemi di riproduzione video che dei sistemi più propriamente chirurgici in maniera tale da rendere questo tipo di chirurgia sempre più raffinata cercando di conservare i risultati e l'efficacia della chirurgia tradizionale che è ormai consolidata da molti decenni di attività e invece di ridurre il più possibile gli effetti collaterali che purtroppo soprattutto nelle chirurgie più demolitive, quando i pazienti vengono operati per patologie tumorali quindi hanno necessità di interventi più demolitivi, dicevo gli effetti collaterali che pure sono collegati a questo tipo di chirurgia.